La parola d'ordine per affrontare questa sfida contro la Casertana e resettare le due sconfitte di Monopoli e contro la Juve Stabia. Sì, bisogna un attimo resettare, ripartire, sapendo che comunque non tutto è da buttare, sapendo però che bisogna fare molto di più perché sono due sconfitte che magari quella in casa, anche se giocavi con la prima, è brutta perché sappiamo quanto ci tenono alla città. Ma secondo me a Monopoli è stato un peccato perché alla fine non hai lasciato nessun tiro in porta vero all'avversario, però purtroppo hai perso per un episodio. Come è arrivata dal punto di vista fisico e mentale la sua squadra a questa trasferta impegnativa? Ma secondo me più che l'aspetto fisico, guardando i dati stanno bene, è più l'aspetto mentale. Adesso sappiamo che è chiuso il mercato, come ho detto prima non ci sono più alibi, quindi la testa adesso deve viaggiare, deve far sì che comunque le gambe girano. Un commento su questo mercato? Beh, è stato un mercato che tante squadre sono cambiate, quindi ci stanno tanti movimenti, a volte può essere un bene e a volte un male, perché poi per amalgamare tanti giocatori bisogna avere tempo e quindi bisognerà vedere come ogni squadra magari riuscirà a creare quell'alchimia che serve poi per la squadra. Per quanto riguarda il suo potenza? No, insomma noi abbiamo preso giocatori che secondo me sono giovani, sono interessanti, che portano aria nuova, quindi avevamo bisogno, però adesso sono giocatori che devono dimostrare più degli altri di voler giocare, di essere insomma buoni per il potenza.